Voglio cominciare questa puntata leggendo una informazione che interesserà molto i vicentini ma credo che sia una cosa significativa anche per quelli che non sono vicentini Gilberto Padovan, editore, dona a tutte le biblioteche civiche del vicentino una preziosa antologia di Emanuele Zuccato che si chiama e si intitola Poesia alla Vicentina questa è una iniziativa pubblica che l'editore Gilberto Padovan suggellerà con un evento culturale giovedì 18 dicembre alle ore 17 presso il palazzo Cordellina che è la sede espositiva della biblioteca bertogliana in contraria alle 12 a Vicenza A ricevere questa preziosa raccolta saranno tutte le biblioteche civiche del vicentino Nell'occasione lo scrittore Antonio Stefani, curatore del volume e il memorialista Walter Stefani presenteranno l'opera Allora, io dovrei fermarmi qui perché volevo dare questa informazione Ma mi piace aggiungere ancora due parole L'antologia raccoglie poesie scelte per la loro particolare rispondenza con lo spirito della società vicentina degli anni compresi fra il 1920 e il 1960 Un interessante epistolario Alcuni testi inversi e un suggestivo apparato iconografico mai pubblicati prima completano l'opera pubblicata appunto dall'editore Gilberto Padovan L'edizione con prefazione di Cibotto è impostata su rigorosi criteri filologici e cronologici Grazie Grazie Grazie